Amiche e amici di Rossini TV, un caro saluto dagli studi di Via degli Abeti di Rossini TV. Sono le 7.20 in punto di sabato 21 ottobre. Un saluto dal sottoscritto e un saluto a Domano e Zocca in regia che ci permette di andare in onda. Siamo al penultimo weekend di ottobre. Tante le notizie che andremo a vedere oggi con la cronaca locale. In molti casi i due quotidiani, il resto del Carlino e Corriere Adriatico, si ripetono su alcune notizie, ma ci sono anche davvero tante cose da approfondire. Poi chiaramente tutte le volte noi vi invitiamo a acquistare i quotidiani locali in realtà per poi approfondire le notizie da soli e andare a leggere ciò che accade nella nostra provincia, nella nostra regione. E come sapete il sabato affrontiamo anche temi nazionali, quindi allargheremo oggi l'orizzonte. Il buongiorno ci viene da Urbino. Abbiamo la webcam posizionata a Urbino. E andiamo a salutare, vedete, il capoluogo feltresco, la seconda città che dà il nome alla nostra provincia. È una giornata, vedete, nuvolosa. In realtà la temperatura è ancora alta. Poi alla fine andremo a vedere le previsioni meteo per il weekend. Ma come vedete ci sono nuvole, ma ci sono già le prime luci che illuminano Urbino. E noi ci portiamo direttamente a Urbino. Oggi partiamo un po' a sorpresa con la nostra rassegna stampa. Perché saltiamo a pie pari la prima pagina del resto del Carlino, sul quale torneremo dopo, e andiamo direttamente a Urbino. Perché Urbino ha ospitato giovedì sera una festa bellissima. Si chiama Festa della Matricola. Ragazzi, è qui la festa. Università in delirio. Tutti contenti, giovani, che hanno potuto festeggiare l'inizio dell'anno accademico nella piazza di Urbino con DJ Set, con tanti scambi fra di loro, scambi anche culturali. Perché poi l'articolista del resto del Carlino è andato a chiedere a loro il motivo per cui sono lì a Urbino. Perché hanno scelto Urbino per studiare. Quindi davvero una festa bellissima. Considerate che la Festa della Matricola è una delle tradizioni più belle dell'università. Se n'era un po' perso il significato nel corso degli anni. Ma chi ha avuto genitori che hanno frequentato l'università negli anni 50-60 ha avuto dei racconti mirabolici proprio su questa Festa della Matricola. Adesso i tempi sono cambiati. Ma è stata sicuramente una grande occasione di incontro per tutti gli studenti di Urbino. E davvero complimenti al capoluogo feltresco e alla sua università. Anche per l'accoglienza che ha predisposto per questi giovani che a Urbino studiano ma chiaramente vogliono vivere anche i loro 20 anni. E torniamo alla prima pagina del resto del carlino. Quindi facciamo un passo indietro e vedete la fotonotizia che è incentrata sul cavalcaferrovia. Chiuso per un mese andremo a vedere i dettagli. Si parla del cavalcaferrovia che immette verso il Miralfiore. Quello che passa sopra praticamente la stazione dove ci sono dei lavori in corso da diversi anni. E adesso ci sarà un'intensificazione degli stessi lavori. Andiamo a vedere gli altri titoli. Addio all'avvocato Brusciotti, 40 anni di storia cittadina, vissuti da protagonista. E ci uniamo immediatamente come redazione di Rosini TV al dolore con la famiglia per una scomparsa davvero che tocca molti perché l'avvocato Brusciotti ha fatto tanto per la città, è stato tanto impegnato in diverse istituzioni. Poi lo vedremo anche con l'articolo a lui dedicato. Davvero siamo vicini alla famiglia in questo momento difficile. Poi cade dalla bici, ferito all'addome, paura per un bambino. Vieni con me dal meccanico, quarantenne, molesta un minore e via dicendo. E cominciamo a sfogliare il resto del carlino portandoci appunto sul cavalcavia. E vedete, cavalcavia, chiuso un mese, gli operai lavoreranno di notte dalle 23 alle 5 di vieto di accesso. Si comincia da lunedì prossimo fino al 25 novembre. Saranno escluse alcune giornate, soprattutto venerdì e sabato. Per circa un mese, dal lunedì 23 ottobre fino a sabato 25 novembre, chiuderà il traffico in orario notturno dalle 23 alle 5 e il cavalcaferrovia sabata. Il divieto di circolazione è necessario per consentire lavori di manutenzione straordinaria, spiegano ancora gli assessori Riccardo Pozzi e Denzo Belloni, di un'arteria davvero determinante per la città. Gli operai lavoreranno in piena sicurezza per un totale di 24 nottate. Il cantiere sarà attivo da lunedì 23 ore 23 a venerdì 27 ottobre fino alle ore 5 del mattino. Lavori anche lunedì 30 e via di 100. Ci sono tutte le date, quindi durante la notte non si potrà percorrere il cavalcaferrovia. È un'interruzione che comunque ridurrà al minimo i disagi, perché comunque durante la notte non c'è un grande traffico nella città di Pesaro. è una decisione decisamente intelligente, anche il fatto quello di non fare i lavori venerdì e sabato. Considerate che il viadotto va messo in, perché si tratta in realtà di tale, di questo viadotto, il cavalcaferrovia, va messo in sicurezza per tante questioni. E sotto gli occhi di tutti la tragedia che è successa qualche settimana fa a Mestre, dove per un guardrail ridotto in condizioni pietose si è verificata una sciagura che ha portato a diversi morti. Ecco, immaginate che il guardrail del vecchio cavalcavia era in quelle stesse condizioni. Chi percorre la strada sta vedendo, può vedere con i suoi occhi, il procedere dei lavori e la messa in sicurezza. Quindi ricordiamoci che per quel periodo di notte non si potrà percorrere. E poi, sempre viabilità e nuove opere a Pesaro, Casellino, le sue prigiori. Pensate, ho la casa dentro la rotatoria, non so come farò a uscire. Il caso paradossale di Oscar Massalini, titolare di una notte a tabaccheria a Pesaro, in Viale della Repubblica, che ci racconta che con i lavori per il Casellino, la realizzazione del Casellino, Pesaro Sud, che viene realizzata nella zona di Santa Veneranda, praticamente si ritroverà isolato e quindi spera, racconta nell'articolo del resto del Carlino, di poter quantomeno entrare a casa sua con una strada che verrà realizzata, che parte dalla rotonda. Non sappiamo bene come potrà essere possibile questo intervento, vedremo. Comunque certo è che i lavori procedono, quindi si comincia a vedere la luce di questa importante opera. L'obiettivo, rifiuti zero in città, riciclare imperativo per i ragazzi, e qui stiamo parlando delle novità annunciate per la raccolta differenziata, riciclare imperativo per i ragazzi, annunciate, anche se ancora non definite, una serie di iniziative per insegnare l'arte del riuso agli studenti, entro il 2030 Pesaro sarà tra le città più virtuose d'Italia dal punto di vista ecologico-ambientale. E qui viene spiegato tutto il calendario degli interventi che porterà comunque a un cambiamento culturale, perché chiaramente saranno insegnati ai giovani, agli studenti, le nozioni principali per poter fare una corretta differenziata. Poi, sempre sul tema del riciclo e del riuso dei rifiuti, vedete c'è un articolo dedicato ai termovalorizzatori, con una posizione del consigliere di Movimento 5 Stelle, Lorenzo Lugli, che, a dire il vero, se la prende con i termovalorizzatori, dicendo che non valorizzano nulla e sono solo un danno per l'ambiente. Quindi il dibattito è ancora decisamente aperto. Eccoci qua, addio all'avvocato Brusciotti, vita da protagonista nelle Marche. Si è spento a 87 anni, ha segnato per decenni la politica e l'economia, non solo di Pesaro, ma della regione, originario di Camerino, dai vertici della Cassa di Risparmio a quelli di Banca delle Marche. Arrivò in città nel 1965, fu anche assessore, poi aprì uno studio professionale. È venuto a mancare, l'abbiamo già detto, ci uniamo anche noi di Rossini TV al dolore per la famiglia, un personaggio che era davvero un'istituzione a livello cittadino, che come tanti di quella età purtroppo non c'è più, ma sappiamo che il ciclo della vita è comunque implacabile. Aveva 87 anni. Bimbo vola a terra, paura, stava facendo cicloclos. Siamo dalle parti di Colbordolo, questo bambino di 8 anni è caduto molto male con la bicicletta, si è procurato un trauma al torace, molto probabilmente con il manubrio, è stato soccorso, è trasportato a Dancona perché in effetti aveva delle grandi difficoltà di respirazione. Speriamo che non si tratti di nulla di grave, ma certamente bisogna stare attenti anche in quella giovanissima età, perché se è vero che si casca e ci si rialza facilmente a 8 anni piuttosto che a 50 o 60, è altrettanto vero che il limite dal divertirsi al farsi male è davvero molto molto esile. Saluti, saluti per chi ci sta seguendo. Quindi abbiamo Lorenzo Tagliolini che ci saluta. Buon sabato, Rossini TV da Morciola. E' stato nominato nell'articolo di prima, che io non ho fatto il suo nome, ma era nominato anche per quello che riguarda, poi vedremo sempre, un'iniziativa domani a Riceci. Poi abbiamo Luciano Ioni, quindi un nome, la Min Mayang, che io ho provato a pronunciare, spero di averlo fatto bene. Tanti altri amici che ci stanno seguendo attraverso la pagina Facebook. Li ringraziamo e se davvero volete interagire con noi, fatelo, perché noi siamo qui in prima persona per colloquiare con voi e raccontarvi i fatti, ma avere un feedback è davvero molto molto bello. Un minorenne accusa. Con la scusa della bici, quell'uomo mi ha toccato. Cos'è successo? Un ragazzino è stato avvicinato da una persona di una quarantina d'anni, che lo ha aiutato a riparare la bici, ma in realtà il suo non era un aiuto disinteressato, ha anche tentato di toccarlo il bambino. Poi, una volta fatto l'intervento sulla bici, si è rivolto ai genitori, l'uomo è stato individuato e quindi adesso partirà un procedimento. Poi, una storia davvero incredibile, nel 2023 lo insulta per strada perché gay alla sbarra il vicino di casa omofobo che lo stava perseguitando da dieci anni. Pensate, siamo nel 2023? Quindi una persona tranquilla che decide di fare la sua vita in maniera aperta, in maniera libera, viene stalkerizzato per dieci anni dal vicino di casa che gliene dice di tutti i colori, pensate, a lui, al suo compagno, al nuovo compagno, addirittura la famiglia di lui, è davvero incredibile. È alla sbarra però questo vicino perché poi a un certo punto la denuncia è arrivata, ma è veramente una cosa incredibile. Considerare che siamo appunto nel 2023 e ancora succedono queste cose, quindi è davvero incredibile. Sistemo un attimo il mio microfono che mi segnalano dalla regia che tocca la camicia, quindi lo porto più in alto perché c'è un fastidioso fuscio grazie alla regia, speriamo di averlo fatto ma non ne siamo sicuri. E poi un appunto del resto del Carlino su una situazione di via Montegrappa, a ridosso del parco della Resistenza, dove secondo chi frequenta quel luogo lo spaccio avviene davvero a cielo aperto dalla sera alla mattina senza che nessuno intervenga. Quindi è davvero un fatto molto esecrabile, grave, che in città ci sia una situazione come quella alla vista di tutti e non si intervenga secondo chi frequenta quella zona. Sciopero, pochi disagi, bus e treni viaggiamano, quindi non ci sono state particolari ripercussioni sul traffico cittadino per i bus e per i treni per le città vicino a Pesaro nella giornata di sciopero. E poi sopra luogo al vecchio Palace, 132 giorni all'alba per inaugurarlo. Il sindaco Matteo Ricci ha fatto il suo proclama il 29 febbraio del 2024, il giorno del compleanno di Gioacchino Rossini. Lui vuole assolutamente inaugurare il Palace Cavolini, che sarà una arena, pensate, con una capienza di 2000 posti praticamente situata in centro, sarà poi modernissima, bellissima. Bene, lui ha dato un termine, io la voglio inaugurare il 29 febbraio. Vediamo se ce la faranno. Certamente bisogna correre per utilizzare questi quattro mesi e raggiungere l'ambizioso obiettivo. Un altro pirata della strada. Salta la precedenza, fa cadere scooter e fugge. Non è tanto la questione dell'incidente, perché purtroppo lo diciamo sempre, il pericolo sulle due ruote è enorme e bisogna davvero stare attenti a tutto ciò che capita intorno a noi. Gli incidenti succedono, poi la persona che cade con lo scooter è quella che si fa veramente male in questi casi, soprattutto di incidenti con macchine. Ma qui la cosa davvero fastidiosa è che per la seconda volta in pochi giorni siamo di fronte a un pirata, cioè una persona che quindi con una sua manovra azzardata fa cadere uno scooter, con tutte le conseguenze quindi sulla salute della persona che era sullo scooter, e fugge. È davvero grave questo? Crediamo che sia fondamentale davvero far sì che le telecamere, tutti gli equipaggiamenti di sicurezza non mettano in condizione le strade di essere più sicuri per evitare che succedano queste cose, perché è davvero incredibile pensare a qualcuno che fugge. pensate che è stata pescata qualche giorno fa in Lombardia una donna che aveva addirittura ucciso una persona sulla bicicletta, se n'era andata a casa, si era barricata dentro casa come se poi non fosse certo che la polizia l'avrebbe in qualche modo trovata ed è andata esattamente così. Quindi davvero è una cosa incredibile, non può succedere. Lo fermano e da false generalità, a suo carico denunce per truffa, hanno fermato questa persona che comunque è bazzica nel riminese, una persona del 1986 che ha detto che i documenti che ha presentato la polizia erano i suoi, invece non era vero per il semplice motivo che lui guidava senza patente, quindi è stato smascherato dalla polizia e adesso ne pagherà le conseguenze. E poi un appuntamento di questa sera, Gruppo Astrofilo, alle 20.30 a Novilara per chi volesse andare ad ammirare il firmamento. Lo dicevamo prima, musica, moda, ecologia, riceci, festa antidiscarica. Domani ci sarà questo evento che chiama in causa molte associazioni ambientaliste, politici, ci sarà anche il sindaco di Petriano, tanti altri, compresi Cantastorie, inizio alle ore 14 per difendere il sito territoriale di riceci dalla possibilità che venga realizzata la grande discarica. Siamo alle freddure di Franco Bertini, le guardiamo insieme, temperatura di 25 gradi a ottobre, non abbiamo cambiato clima, abbiamo cambiato emisfero. È davvero incredibile, pensate che anche questa mattina erano 20 gradi, ma ieri erano 23-24 gradi, al di là del fatto che purtroppo la stagione balneare, fateci mettere quel purtroppo, è finita, essendo girato il tempo anche per quello che riguarda il mare, il mare è mosso, quindi i bagni li abbiamo fatti fino a domenica scorsa, però certamente è incredibile questo cambio di temperatura che ci porta a vivere ottobre come se fosse un mese primaverile inoltrato. Considerate che siamo alla vigilia di novembre, quindi l'inverno è davvero alle porte, ma continuiamo ad avere 25 gradi. Poi un'altra delle sue notazioni, Tullio Giacomini, sposo a 88 anni. Tullio Giacomini è una persona molto conosciuta a Pesano, un intellettuale, uno che gira per il centro col suo abito molto, molto sempre bello, è una persona molto, molto dedita al suo look. Conoscendo la sua fervida immaginazione, pensavo che avrebbe aspettato i 90 auguri come se ne avesse 18. Davvero complimenti a Tullio Giacomini e a lui, come a questi personaggi, per cui anche Franco Bertini stesso, che rendono la nostra città davvero interessante e importante con queste persone che sono molto, molto brave. Allora, provo a sistemarmi il microfono più in alto, continuano a dirmi che purtroppo struscia dalla regia. Vediamo se adesso va bene. Adesso dovrebbe arrivare il regista a aiutarmi a metterlo a posto. E noi comunque andiamo avanti perché ci spostiamo a Fano, dove la camminata in rosa sfiora quota 1000. L'evento è in programma domani, oltre 900 adesioni. Cucchiarini, impegno comune per prevenire e combattere il tumore al seno. Quindi sono già oltre 900 le adesioni della terza camminata rosa. Ecco che sta arrivando Manuel Zocca, il nostro regista, che quindi mi mette a posto il microfono. Voi non lo vedete, vi posso dire che è quasi meglio, visto che giustamente il suo abbigliamento è da regia e non è da andata in onda. Poi vi portiamo anche il discorso sulla Confartigianato. Perché? Perché c'è una pagina pubblicitaria del resto del Carlino. Taglio del nastro a Pesaro per la nuova sede di Confartigianato. Sabatini per Paoli, con questa nuova sede, vogliamo sempre più essere un punto. Si tratta di una pagina pubblicitaria. È stata realizzata giovedì scorso l'inaugurazione della nuova sede di Confartigianato a Pesaro, in via Bedosti, nella zona di Torraccia. Davvero un parterre d'eccezione per questo taglio di nastro. Vedete il prefetto, il sindaco, tantissime le autorità che sono venute a tagliare questo nastro per questa sede bellissima, il presidente nazionale di Confartigianato. Ve lo diciamo anche perché martedì sera alle 21.40 andremo in onda con il nostro speciale realizzato che racconterà l'evento con tante interviste ai protagonisti di questa inaugurazione. Poi una notizia che riguarda la cultura di Fano, presentato Fano Festival, lungometraggi a novità. Numeri da capogiro per il Fano Film Festival, che torna quest'anno dal 24 al 28 ottobre al Cinema Masetti, per proporre i migliori cortometraggi in concorso. Con i suoi 35 anni la manifestazione si inserisce fra le più longeve d'Europa, quindi dal 24 al 28 ottobre per gli appassionati di cinema, appuntamento al Cinema Masetti. Un tartufaio furbo cerca tartufi di notte e i carabinieri lo multano. Non si può, non si può, non si può andare a cercare i tartufi di notte. È accaduto l'altra notte nella zona di Cartoceto. Ci sono degli orari ben precisi per poter svolgere l'attività di cercatori di tartufi, quindi si può andare esclusivamente dalle 5.30 alle 18.30. Lui era andata di notte, l'hanno pescato, gli hanno ritirato il patentino, quindi niente tartufi per questo furbetto dei tartufi, come poi viene definito anche dal Corriere Adriatico. Poi strada che è davvero ridotta in condizioni terribili, la strada via di San Vitale, che diventa via della tomba, un incubo quotidiano con buche profonde e fossi sul percorso che va da Caminate a San Costanzo. Quindi gli abitanti della zona protestano. Noi ci sentiamo come sempre di portare l'attenzione sulla condizione delle strade. Stanno facendo dei lavori, a Pesaro in effetti si stanno cominciando a sistemare, ma noi veramente ci vergogniamo tutte le volte che percorriamo via Roma a Fano, perché sono delle condizioni da rally, poi in altre zone della città di Fano, dove fanno dei dissuasori di velocità situati in località dove non c'è bisogno di dissuasori perché talmente sono le buche che non si possono superare i 20 km all'ora. Davvero una situazione che va rimediata. Sappiamo che il prossimo anno Fano avrà l'arrivo del Giro d'Italia. Speriamo, visto e considerato che il Giro d'Italia di solito porta alla riparazione delle strade, che avvenga la stessa cosa a Fano, ma non, per favore, solo sulla strada interessata dall'arrivo, perché è davvero una situazione vergognosa. Ci spostiamo poi a Urbino. Abbiamo già parlato della festa della matricola. Vediamo i nuovi 12 parcometri di nuova generazione. Urbino servizia speso 120 mila euro per sostituire quelli vecchi, a volte fuori uso. Il sindaco Gambini ora puntiamo al telepass per le aree coperte. Quindi si procede nella modernizzazione della possibilità di accedere ai parcheggi a pagamento nella città di Urbino e quindi presto si potrà fare anche con il telepass. E poi siamo alla Pedemontana, Urbino e provincia. Concludiamola e senza sprechi. Cosa vi dobbiamo dire? Io sono dell'idea che è bellissimo sognare. Infatti lo dice anche il cagnolino della nostra vignetta del resto del Carlino. Mi sembra un sogno. Pensate a una Pedemontana che collega Ascoli Piceno a Pennabilli, quindi in Emilia Romagna, passando per Amandola, Sarnano, Camerino, Matelica, Fabriano, Sassoferrato, Cagli. Ma una Pedemontana, quindi una strada di scorrimento veloce che vada parallelamente, si può dire, all'autostrada sulla costa. Qui è stato realizzato il progetto, se ne è parlato tanto. Coloro che hanno portato questa idea al vaglio dei tecnici adesso dicono che dobbiamo assolutamente partire. Io sono solidale con il nostro amico cane. Spero davvero che questo sogno si realizzi, ma davvero considerata la difficoltà che c'è poi nel rendere pratiche queste decisioni teoriche, sono davvero molto scettico e non credo di essere l'unico. I Verdi, Fileni non merita il tartufo d'oro. Una polemica a Sant'Angelo Invado è stato contestato il fatto che venisse assegnato il tartufo d'oro a Giovanni Fileni domani in occasione della giornata conclusiva della festa di Sant'Angelo Invado del tartufo, la mostra del tartufo, perché dicono in realtà lui non se lo merita in quanto non è un ecologista. Quindi questo è quanto dicono proprio alcuni critici del fatto che sul fatto che sia stato appunto assegnato Umberto Eco, Enzo Biagi, Rita Levi, Montalcini eccetera, non ha nulla a che vedere secondo loro con un qualcuno che fa dell'allevamento insomma il suo business. Quindi polemiche a Sant'Angelo Invado. Chiudiamo il resto del Carlino. Ci spostiamo sul Corriere Adriatico che, come vedete, anche lui si concentra sul cavalca ferrovia chiuso di notte. D'altronde la notizia è importante per la vivibilità e la viabilità della città di Pesaro. Un mese di complessi lavori di manutenzione che sono stati sincronizzati con il passaggio dei treni, percorsi alternativi per 118 e vigili del fuoco belloni, e per la viabilità ordinaria disagi contenuti. Certamente, essendo i lavori di notte, si può dire in anticipo che effettivamente i disagi saranno contenuti. Poi vedete il Corriere Adriatico affronta la stessa notizia che abbiamo già noi evidenziato con il resto del Carlino. Poi dopo, Vallefoglia, asfaltature. A Vallefoglia sono state fatte diverse strade nuove. Adesso si viene, si lavora sulla segnaletica orizzontale a Talacchia col Bordolo, Sant'Angelo e Montecchio. Quindi procedono i lavori per rendere più agiata la viabilità nel comune di Vallefoglia. E poi il sottopasso ferroviario sarà pronto in primavera. Qui siamo alla stazione di Pesaro. Lavori che sono indirizzati a migliorare il sottopasso ferroviario, che oggi in effetti è in condizioni abbastanza precarie. Addirittura rende difficile, per esempio, il suo utilizzo da parte delle persone con difficoltà di deambulazione. Quindi è chiaro che ci saranno questi lavori importanti e si parla di un intervento che durerà qualche mese. Pronto il nuovo piano antenne 5G. Tanta polemica nei mesi scorsi per le antenne posizionate in punti strategici della comune di Pesaro. Ricordiamoci quello di Fiorenzola di Focala, tanto per fare un esempio. Pronto il nuovo impiano antenne 5G. Per ora impianti ridotti da 56 a 34. Si presenta il piano il 23 ottobre in un incontro fra i quartieri e la società Polab. I nuovi impianti da installare delle 56 antenne richieste via libera per 34. A talmente sono 100 gli impianti installati sul territorio comunale. Le localizzazioni saranno muraglia, quartieri periferici, zona mare, strada panoramica, centro. E vediamo se ci saranno le polemiche che hanno portato a Fiorenzola di Focala la realizzazione di questa antenna che tanto ha fatto discutere. Bambino di 8 anni cade dalla bicicletta, con il manubrio si ferisce all'addome. Anche qui una pagina pubblicitaria dedicata a Confartigianato, ve l'abbiamo già detto. Poi siamo al sopralluogo, al vecchio palazzetto, la inaugureremo per il 29 febbraio. Il sindaco continua a essere ottimista e noi siamo contenti perché l'ottimismo è davvero qualcosa che poi quando si persegue porta a risultati. Il conservatorio, pronto il cantiere, traslocano 15 aule e la biblioteca. Primo incontro fra le due imprese vincitrici dell'appalto a Palazzo Rivieri. Anche qui si parte a novembre. Tantissimi davvero i lavori nella città di Pesaro. Mentre si fanno lavori su tante situazioni, si fa fatica a trovare la sede per il nuovo centro dell'autismo. Viene continuamente bocciata la localizzazione di una sede rispetto a un'altra e il risultato è solo che questa decisione viene procrastinata a non si sa quanto. Poi una notizia che c'è in fondo sulla pagina del Corriere Adriatico. A Tiosceni, davanti a tre bambine, dovrà fare volontariato. Quindi è stato proprio combinata la pena questo signore che faceva a Tiosceni davanti a queste bambine. Ci trasferiamo poi a un'altra iniziativa in programma domani nella città di Pesaro, esattamente nella sede di Confcommercio. Come restare giovani, ricette medico-scientifiche per migliorare la terza e cia. Qui vediamo i protagonisti di questo convegno interessantissimo che sarà realizzato domattina alle ore 10. Patrizia Caimi di Terziario Donna, Alberto Dolci di 50 e più, Stella Scarpa, titolare della sua omonima azienda, che lavoreranno sul benessere e soprattutto per quello che riguarda il segreto della gioventù. È un appuntamento interessantissimo, vi invitiamo a partecipare chi volesse farlo, ma ricordiamoci anche che per chi non avesse la possibilità di seguire in prima persona il convegno, realizzeremo uno speciale che poi andrà in onda venerdì alle 21.40. Quindi davvero molto interessante questo appuntamento. Aggregazione e gioia in piazza, questa è la città per i giovani e torniamo sulla festa della matricola di Urbino. Poi mentre i ragazzi festeggiavano a Piobbico e a Pecchio, invece sono state sbaliggiate due abitazioni, i ladri rubano denaro e oro, ma chiaramente fra le due notizie non c'è conseguenzialità, sono solamente affiancate, ma non è che i ladri sono andati a casa dei giovani che festeggiavano a Urbino. Mentre invece a Fano purtroppo continuano gli atti vandalici, continuano le situazioni proprio di baccano, di paura, insomma, quindi davvero molto molto difficile la situazione in alcuni quartieri di Fano. Qui siamo a Poderino dove sono gli abitanti esasperati, intervengano comuni e forze dell'ordine, le foto che testimoniano i danni realizzati dai teppisti proprio nelle opere che ci sono nella città di Fano. E' incomprensibile questo tipo di atteggiamento. E poi vedete altri saluti dalla nostra pagina Facebook, abbiamo quindi la possibilità di salutare Antonio Di Benedetto, quindi è uno dei tanti che è anche lui su Facebook, quindi un saluto a lui. E andiamo sulle molestie sessuali su ragazzina avvicinata nel bagno di un bar. Questa è la notizia che viene affiancata, viene messa insieme all'altra che abbiamo già letto con il resto del Carlino, di quel ragazzo che è stato molestato da un quarantenne, quindi in questi due casi, quindi indagato un quarantacinquenne e poi questo quarantottenne. Ma davvero continuano questi atteggiamenti di molestie sulle donne, davvero molto molto antipatico. Poi scoppio alla Tecno con l'Audi, siamo a Bellocchi di Fano, un operaio ferito al braccio, quindi continua la piaga degli incidenti sul lavoro in questa azienda di Fano, che la Tecno con l'Audi, quindi un incidente gravissimo che ha portato al ricovero di questa persona che si è ferita gravemente al braccio. Speriamo che non ci siano conseguenze per lui, ma certamente la sicurezza sui luoghi di lavoro continua a restare un tema fondamentale. Poi il furbetto del tartufo preso di notte e poi ci trasferiamo a Valcesano, perché? Perché c'è una bella iniziativa mirata all'uso corretto delle parole per prevenire paure e miti. La magistrata breggia ai ragazzi del Fermi. Cosa succede? Succede che questa magistrata farà una lezione in un istituto scolastico e un festival praticamente nel quale i relatori richiamano l'attenzione di tutti, in particolare dei giovanissimi, sulla necessità di fare un uso meditato del linguaggio, perché il disilvolto impiego di parole senza pensiero, soprattutto nei social, crea paure, miti e convinzioni che corrompono e inquinano. Un'iniziativa davvero lodevole, quindi complimenti alla scuola di Mondolfo. Poi ci trasferiamo con il Corriere Adriatico alle notizie sportive, che poi andremo ad approfondire anche con il resto del Carlino per quello che riguarda le notizie nazionali. Domani ci sarà la partita fra Vis Pesaro e Re Canatese, Altonino Benelli. Ora la Vis vuole vincere il derby. Banchieri analizza il match di domenica al Benelli con la Re Canatese. La squadra è determinata e sono certo che i tifosi ci aiuteranno. Lui sottolinea l'attaccamento dei tifosi alla Vis, che davvero hanno sempre presenziato numerosissimi in tutte le partite che la Vis ha dovuto giocare fuori casa. Ci saranno due sicure assenze nei bianco-rossi, il portiere Filippo Neri e l'ala Mamona, blu Mamona. Poi, per quello che riguarda il campionato di Serie D, avvincente con il Fano, che avrà lo scontro diretto con il Matese, e soprattutto il Fossombrone, che domani ospiterà il Termoli, il sorprendente Fossombrone, che davvero sta facendo un campionato di testa. Complimenti a loro, ancora si trovano biglietti. Quindi un campionato di Serie D davvero avvincente. Siamo poi alla VL. La prossima domenica la VL giocherà contro Scafati. VL battaglia a rimbalzo, Scafati recupera numerosi palloni offensivi, alte poi le percentuali nel tiro da due e da tre. Domani la Carpegna Prosciutto servirà a una gara di sostanza su entrambi i lati del campo. Ci sono poi tutte le statistiche approfondite nell'articolo del Corriere Adriatico che vi invitiamo a leggere, perché andare a vedere una partita di pallacanestro con una idea ben precisa delle statistiche, delle caratteristiche, delle peculiarità delle squadre è davvero un qualcosa che ve la fa vivere in maniera diverso. Poi dopo il blitz con Bergamo, Vallefoglia cerca il Bissacuni e qui siamo alla pallavolo femminile. Stasera la squadra di Coach Pistola è impegnata in trasferta nell'anticipo. Quindi davvero speriamo che la Megaboss oggi possa ottenere un'altra vittoria in trasferta. Mettiamo via il Corriere Adriatico. Andiamo sul resto del Carlino Sport, il fascicolo nazionale. Così affrontiamo i temi nazionali. Andiamo a vedere le partite della Serie A di domani. La nona giornata, anzi di oggi perché si comincia oggi, Ellas-Verona-Napoli alle 15, Torino-Inter alle 18, Sassuolo-Lazio alle 20.45, domani Roma-Monza alle 12.30, Bologna-Frosinone alle 15, Salernitana-Cagliari alle 15, Atalanta-Genoa alle 18, Milan-Juventus il big match alle 20.45, Udinese-Lecce 18.30, Fiorentina-Empoli 20.45 e queste ultime due partite si svolgeranno di lunedì. Poi una notizia così di colore con tutto quello che sta succedendo alla Juventus, vedere la maglia bianconera di Vucinic al quale sono stati confiscati casa, moto, eccetera, per evasione fiscale. Davvero non c'è fine ai guai della squadra bianconera, anche se poi in questo caso parliamo del passato, ma certo che la maglia bianconera viene sempre affiancata a situazioni difficili come quella che ha riguardato per esempio il caso scommesse nel quale un giocatore della Juventus è protagonista. Poi Pep De Zerbi allenerà il City, quindi un grande endorsement di Pep Guardiola per l'allenatore italiano che secondo lui sarà il prossimo allenatore del Manchester City. Poi Tonali e Spring Champions per patteggiare, Barella e Casale, contrattacco a Corona, quindi il Maurizio Corona che sta imperversando per fare le sue denunce sulla questione delle scommesse e ha attaccato un giocatore dell'Inter che si dice totalmente strano e in questo caso ha detto se continui ti querelo. Quindi davvero oltre che dar fiato alle notizie quando poi sono sbagliate, quando non sono fondate, la cosa diventa davvero ancora più antipatica. Tiago Motta che fa grande anche il Frosinone, ha una squadra da affrontare come una big, quindi per la partita di domani fra Bologna e Frosinone. Poi ancora la Vispesaro, Banchieri e il ritorno al Benelli con Recanati. Pensate che tra viste e Recanatese c'è perfetta parità per quello che riguarda gli scontri diretti. Poi Fano, Palomba, ora il mio Matese fa i numeri e qui è il portiere del Matese che giocherà appunto domani a Fano. E siamo alla VL, il capitano spinge la VL a fare il bis con Scafati una partita fondamentale. Quindi vedete capitano Matteo Tambone che è stato ospite nei nostri studi giovedì scorso, poi lo vedremo anche alla fine quando vi ricorderemo gli appuntamenti del weekend alla nostra trasmissione insieme a Canestro. E poi Megabox, in sei hanno militato in Piemonte, oggi alle 20.30 c'è a Cuneo la sfida delle ex. Chiudiamo il resto del Carlino Sport, cominciamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, molto velocemente, andiamo sul Corriere della Sera e vedete che ci racconta quello che sta accadendo in Medio Oriente, pronto l'attacco in tre fasi, Biden trovato l'accordo, i primi aiuti entro 48 ore, ostaggi Hamas libera madre e figlia americane. Vedete la foto delle due donne che sono state le prime due persone in ostaggio a essere liberate da Hamas ieri, a due settimane dal drammatico raid che ha portato al rapimento di 200 persone e all'uccisione di oltre 1.000-1.500 israeliani. Reazioni misurate, Israele tuteli i civili, è una posizione ovvia, non si può, come sempre, confondere Hamas con i palestinesi. Meloni lascia Gian Bruno, non pensino di indebolirmi, scommesse altri nomi, anche se su Barella, come abbiamo detto, lui dice querelerò tutti. E poi il vertice che ci sarà anche oggi in Egitto, dove Giorgia Meloni presenzierà e comunque adesso andremo a vedere la vicissitudine di Giorgia Meloni con il suo compagno, perché vedete la Repubblica dedica un titolo in prima pagina abbastanza grosso alla questione Gian Bruno. Dopo i fuori onda catturati da Striscia la Notizia, la Premier annuncia con un tweet l'addio ad Andrea Gian Bruno. Finisce qui. A Mediaset sapevano delle condotte sessiste, giallo su un incontro a settembre fra la leader di Fratelli d'Italia e per Silvio Berlusconi, quindi come se si tornasse indietro per eventualmente indagare e scavare sul fatto che questa fosse una cosa che era già nota da tempo. Poi liberati i due ostaggi, i motivi umanitari, il presepe in Franto, il grande fratello che fa saltare le coppie, qui siamo sempre riferiti alla questione Meloni, perché come sapete da una parte sono stati fuori onda televisivi, dall'altra un messaggio social da parte della Premier a chiudere la storia, quindi davvero storie molto molto particolari legate alle nuove metodologie di comunicazione del terzo millennio. Gaza parte la partita degli ostaggi, le prime due persone liberate, Hamas rilascia due americane, Tel Aviv avvisa, nessun baratto con la tregua, nelle mani dei terroristi 200 persone, fra cui 20 bambini, che secondo chi fa questo tipo di indagini sono ancora vivi. Poi manovra, il governo passa il primo test, è importante, standard e pur confermano il rating, è stata varata la manovra finanziaria, ieri c'era la valutazione dei mercati sulla impostazione della manovra finanziaria italiana, a quanto pare l'esame è stato superato, è stato confermato il rating italiano. E poi ancora il resto del Carlino, Hamas libera i primi due ostaggi, vedete quindi le notizie si rimbalzano davvero dalle prime pagine, anche qui Meloni lascia Gianbruno, finisce qui e poi tante altre notizie, travolti sulle strisce altri due vittime, a Torino e Roma, è davvero una piaga incredibile, quella degli incidenti stradali con pedoni che vengono travolti e uccisi. Andiamo a vedere i programmi del fine settimana che vi proporremo con Rossini TV. Oggi alle 10.30 e alle 16 avremo la lettura, il commento al Mangelo della Domenica, cura di Don Marco di Giorgio, poi sarà in replica domani alle 8 e alle 11 e ricordiamoci che va sempre in onda in prima venerdì alle 17.30. Abbiamo poi insieme a Canestro che è andata in onda giovedì sera con la nostra Betta Ferri, con ospite Matteo Tambone, playmaker della Carpegna Prosciutto, e Federico Pieri, ex giocatore della VL. Vi invitiamo a seguire le repliche perché davvero sono interessantissime. Si segue sempre la nostra amata VL domani alle 11 e alle 20.45, scusate, oggi alle 11 e alle 20.45, domani alle 9.30, alle 14, per chi volesse presentarsi alla partita con delle notizie in più sulla VL. E infine l'ultimo appuntamento che vi segnaliamo, la Fiera dei Cavalli di Cantiano, bellissima, si è svolta in due weekend, li abbiamo seguiti tutti e due. Questa sera alle 20.30 ci sarà il secondo appuntamento da Cantiano, vedete questo simpaticissimo amico a quattro zampe che ci saluta, col suo primo piano, una giornata conclusiva, due giornate di festa che sono andate benissimo anche per le condizioni meteorologiche. Complimenti a Cantiano e a chi ha organizzato questa bella festa. Vi adesso lasciamo alla ricorrenza di oggi. Perché? Perché pensate che il 21 ottobre del 2016 è stata istituita in Italia la giornata nazionale dell'educazione finanziaria. Noi abbiamo preso alla lettera questa ricorrenza, come sapete stiamo dedicando tanti appuntamenti sul nostro canale in prima serata alla finanza, alla gestione economica. Vi invitiamo a seguire il nostro palinsesto perché si tratta davvero di consigli utilissimi sulla gestione delle nostre risorse. Adesso andiamo a vedere il meteo che ci suggerisce l'aeronautica militare con, vedete, con la nostra visione di quello che sarà la giornata che la regia dovrebbe adesso metterci in vista. Abbiamo comunque un saluto da Alfredo di Pesaro che salutiamo, siamo molto contenti. Eccoci qua, temperatura intorno a 19 gradi. Vedete, la giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvole, da coperture, una temperatura che arriverà a un massimo comunque elevato, pensate, di 29 gradi nell'ora centrale della giornata, ma era molto caldo anche ieri. Poi, vedete, comunque una giornata tendenzialmente nuvolosa che quindi ci immette nell'autunno pur con questa temperatura caldissima come ci ha sottolineato anche Franco Bertini. E poi la giornata di domani dovrebbe essere simile a quella di oggi, ma per saperne di più vi lasciamo alle previsioni meteo che andranno in onda appena vi saluteremo. Appuntamento lunedì mattina alle 7.20 per Buongiorno Rossini. Buon weekend a tutti.